Un frate dal forte carattere, che qualche volta poteva sembrare anche arrogante, che credeva in Dio con la semplicità degli umili, che ha trascorso tutta la sua vita in un piccolissimo mondo in un convento del Sud, che credeva nella preghiera, nella presenza continua di Dio nelle vicende umane e che ha incoraggiato tanti disperati e dato un po' di luce della gente che viveva nel buio.